dove siamo ciao a tutti ragazzi buonasera buonasera come altre registrazioni questa qui sarà una figata pazzesca delle sfide di fortnite sfide di fortnite stagione 5 ragazzi voglio esplorare la mappa che è successo cosa ha fatto galatus io so solo che esiste un deserto ok iniziamo subito con le sfide le sfide quali sono andiamo a vedere un deserto credo un canyon si andiamo subito ragazzi di fortnite stagione 5 stagione 5 quindi partiamo subito con la prima sfida a dopo ciao vai andiamo oggi in su lasciatelo ragazzi ragazzi ora andiamo scopri copo di cacciatori dei cacciati questo è un copo di cacciatori credo che sia del post battaglia fai sfida sfida uno andato wow 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 no ah si no te l'ho adatta ah no aspetta 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 ho fatto una sfida ho fatto una sfida oggetti da raccogliere 8 su 10 8 su 10 altri oggetti no ho bisogno di altri oggetti ragazzi no eh oh ehi ehi opla 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 ok ma l'ho fatta l'ho fatta oh prima sfida ragazzi prima sfida di questa stagione stagione 5 stagione eccoci vai 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 non posso non posso dai dai muori no muori ti ho fatto 45 come hai fatto a morire muori ok ok sei me legato me l'ha me l'ha dato 7 su 10 in un'azione ok no allora devo infliggere altri 80 danni aspetta non sono tanti il focolaio è il focolaio è il focolaio è il focolaio è il focolaio così ti fai la salute no 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 non posso stare fermo livello 4 ma da tanti vbac hai ottenuto 100 vbac grazie ma ma l'ha dato forte ok sfide scopri luoghi indicati completato danni da fucile d'assalto 497 e 500 quindi bisogna fare poco poco per completare i danni da fucile d'assalto vai con le prossime scoprile in poco adesso abbiamo uno che ha 3 puntini che vuole parlare si 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 puoi parlati da una missione parliamo? salve ciao arriva da te ne posso raggiungere ricompense 30 ah raccogli questi di qui i lingotti certo li raccoglierò li raccoglierò questa terra raccogli posso non posso no comunque si che posso l'ho fatta però che pizzo no 30 no 2 su 3 ah fa ma questi sono i lingotti lui sta parlando di lingotti ah fa lui sta parlando di questi no no parla con lui parla con lui oh lei è ritardata vai la scuola si viene da mettirlo quindi ti mancano 3 danni per fare la sfida infatti sto cercando proprio gente io voglio parla oh esamina forzieri 7 su 10 quindi ogni forziere che trovo ecco ci ce n'è uno per esempio la perfetto ce ne dovrebbero essere 4 qua ok 8 no maledetta l'ho fatta l'ho fatta wow grande abbiamo fatto la sfida dei danni grande no non è andato un'arma fortissima no non è andato un'arma fortissima no non ci credo non ci credo non ci credo siamo morti entrambi siamo morti entrambi hai fatto anche una sfida hai fatto anche una sfida bravo siamo morti entrambi no è morto anche lui ma hai rimasto in aria hai posito la radio hai posito la radio guarda ma Iron Man secondo me è più bello senza zaino o con? secondo me senza guarda no senza Pietro ha ragione le skinne di origine sono senza zaino alcune hanno bisogno dello zaino fai la benzina fai la benzina fai la benzina scendi fai la benzina fai la benzina basta muoriiiiiii nooo ok ok me l'ha data me l'ha data Mi ha dato la sfida. Dov'è?